Eminenza, un Natale diverso quello che ci apprestiamo a vivere, un Natale di sofferenza per tante persone, un Natale di restrizione per molte, però un Natale che vede sempre in fondo al tunnel e sempre più vicina la luce del Signore. La pandemia ha provocato una crisi globale che ha toccato le dimensioni generali dell'economia, delle relazioni, ma anche gli aspetti del vissuto quotidiano, concreto. Dentro questi eventi, certamente segnati dalla sofferenza, il Natale accende la luce del Vangelo, che ci dona la sapienza per poter valutare ciò che ci accade con lo sguardo di Dio. E noi sappiamo che tutto ciò che avviene, se noi sappiamo viverlo nella volontà di Dio, porta in ultima analisi un vantaggio. Dobbiamo però essere capaci di questo approccio critico, di non lasciarci cioè vincere da pessimismi, da ansietà che paralizzano o suscitano rabbia e recuperare quei valori di solidarietà che ci consentono di lavorare insieme per dare risposte adeguate a queste condizioni di contrarietà che ci sfidano. Quindi è un appello quello che la storia che stiamo vivendo ci rivolge, ad essere capaci di maturare una cultura della prossimità. Io intendo assicurare una preghiera specialissima per tutti quelli che hanno sofferto, soffrono a causa del contagio, per le loro famiglie, preghiamo per quelli che hanno perso la vita e per quanti si battono a vario titolo per dare risposte efficaci a queste situazioni di disagio, anche grave, che costantemente si ripropongono. Allora, se siamo una comunità che è capace di esprimere il senso del noi chiesa e anche di un noi civico, potremo trarre anche da questa storia pagine di saggezza importante per noi e per le generazioni che vengono. Quindi solidarietà, saggezza, una battuta volevo farla, Eminenza, riferendomi al luogo in cui ci troviamo. Siamo nella chiesa di San Silvestro, meravigliosa, restituita alla città dell'Aquila dopo il sisma nel luglio del 2009. Che il 2021 sia anche un anno di speranza per la ricostruzione delle chiese del nostro territorio? Ce lo auguriamo, sapendo che la ricostruzione delle chiese è una impresa che ha molteplici significati. Non è soltanto restituire alla città e alla comunità credente dei monumenti di alto valore artistico, è anche riaprire dei punti identitari che consentano alla gente di ritrovarsi come comunità e quindi di uscire, io lo chiamo, da quella sorta di apnea aggregativa che le chiese chiuse hanno prodotto. Grazie. 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 Grazie.